Il suono della campanella con le gambe a scalare gradini, il bentornati a scuola dopo l'ennesimo stop per il Covid. Sono circa 40.000 gli studenti marchigiani tornati sui banchi al 50% e il guardarsi in faccia, vivere la dimensione fisica dopo mesi di buio. Il timore è sempre lo stesso doversi fermare nuovamente, per questo la capienza a metà viene vista come il punto di equilibrio possibile. Un barlume di normalità che non deve farci rilassare ma responsabilizzare ulteriormente, ha scritto il governatore Acquaroli in un post su Facebook. Intanto, se presenza sarà fino alla fine dell'anno, si arriverà al maxi orale dell'esame di Stato e no, non si sentono maturandi di Serie B tutt'altro. Grazie a tutti.